Mário Criado Vem aqui, vamo! Vem aqui! 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 Ah no, e che c'è? Dimmi! Roba, e mi so scorciato ma non è capace la scuola. É inutile. Ma che fa finire mamma e papà che fanno una mattina a sera e non ci stanno mai i soldi Che vuoi fare allora? L'amico mio mi ha trovato un lavoretto semplice semplice e mi fa pure buono Sì, e che ti fa fare? E poi a noi ma che te mi sentava? A me questa vita di merda non mi piace A me piacciono i soldi, il film, una bella vita Se le cose piacciono pure a me piacciono a tutti quanti Noi siamo persone onesti e questa gente non ce la facevamo Poi figata a me Fa quello che vuoi ma noi ma a me Se ci vogliono altre cose Grazie a tutti Emanuele Sibillo, uno dei baby boss del centro storico di Napoli, ventenne, è stato ucciso la scorsa notte con un colpo d'arma da fuoco alla schiena. Musica Che c'è fai qua? Chi sta nel posto per te? Va a te! Tu che c'è fai qua? A che stessi siamo arrivati? Fatte fatti tu io, oramai è fatto. Sono fatti i miei, tu sei mio fratello. Tu non conosci questa gente, ma chi stia la vita mia? Tu non fai parte di questo mondo, noi siamo gente onesta, costituisciti, collabora con la giustizia. Così pazzo, vabbè, io non sono un fan. Pensa a mamma, al dispiacere che le stai dando, prende giorno e notte, vorrebbe abbracciarti ancora. Torna a casa, non ti preoccupa, ti accompagniamo noi a costituirti. Tegnai! 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 Grazie a tutti.